Siamo qui oggi, riuniti per la nonna, riunione, sul trattato della vera devozione alla Madonna, sulla consacrazione alla Madonna secondo il metodo di San Luigi Maria Grion di Monfort. Nelle ultime due lezioni abbiamo visto giustamente che cos'è la falsa devozione alla Madonna. E forse abbiamo sentito in qualche modo qualcosa dentro di noi che non è così purro, che non è così diciamo d'accordo con quello che la Madonna voglia di ognuno di noi. E giusto, la ragione di questo corso è giusto questo, di purificare, di diciamo pulire il nostro cuore per essere ognuno di noi d'accordo con la Madonna. E giusto, volevo raccontare un piccolo fatto, perché c'era una volta, diciamo, un monaco, lui diciamo era una persona, ha avuto qualche tempo prima, molta devozione per il momento di fredezza spirituale. E lui ricordava di un brano, di un cantico, che è giusto, che parla della Madonna in questo brano, fa riferimento, secondo me di quel canto Ave Maristella. E lui, in questo brano, ha un brano che dice così in latino, Dice, mostra, dimostra che è mia madre. Dicendo, perché sono adesso così, in questa approvazione, in questa difficoltà, voglio sentire dentro di me che tu sei mia madre. E ripeteva così, mostra, te sei madre. Lui guardava la Madonna, pregava davanti alla statua della Madonna dicendo questo, mostra, te sei madre. In quel momento lì, la Madonna, diciamo, ha presso vita, ha guardato lui con un sguardo, diciamo, un po' forte, e ha detto così, mostra, te sei figlio. No? Dice, tu voglia che io presenti davanti a te che sono tua madre, però è necessario che tu facci anche questo, dimostri che sia davvero il mio figlio. E che cosa fa il figlio per la madre? La prima cosa, sembra una cosa che in un certo senso non è difficile, è obbedire. Perché è difficile perché obbedire fa sempre riferimento a questo, obbedire, sentire, diciamo, non ti chiedo, non ti chiedo, diciamo, che tu scopri qualcosa, ti chiedo che tu faccia quello che ho detto. Perché qualche volta quando siamo davanti, diciamo, una funzione di autorità, di un certo senso di una funzione che tu devi decidere qualcosa, diventa, questo è difficile. Perché qualche volta è sempre più facile obbedire che governare, che insegnare. Perché quando tu devi prendere una decisione, tu sai che, diciamo, se tu sbaglia, l'altro sbaglia. No? E ha un'espressione che dice, quello che obbedisce non sbaglia. perché, diciamo, la responsabilità è sempre di quello che comanda e non quello che fa, no? Logico che questo faccia riferimento alle cose che, diciamo, non diventano un peccato. Nessuno può, non bisogna obbedire all'altro, se quello lì è peccato. Però se non è, è sempre più facile obbedire che è giusto, diciamo, comandare. E giusto oggi vedremo, davvero, che cos'è la vera devozione a Maria. Perché una volta che abbiamo capito che cos'è sono gli sbagli, adesso diventa più facile capire quali sono, diciamo, le caratteristiche della vera devozione. Sono cinque. Cinque caratteristiche della vera devozione. vedremo veloce dopo una per una. E dice, la devozione, la devozione alla Madonna, la prima cosa della vera devozione, è una devozione interiore. La seconda è una devozione tenera. La terza è una devozione santa. La quarta è una devozione costante. E la quinta è una devozione desinteressata. Adesso vediamo le prime di queste devozioni, però che cos'è? Una devozione interiore. Quando dico devozione interiore, San Luigi va a spiegare fra poco, noi abbiamo una necessità di avere manifestazione esteriore della nostra devozione. Però, per essere questa manifestazione esteriore della devozione, deve prima avere qualcosa di interiore. Dice, innanzitutto, la vera devozione alla Santa Vergine è interiore, vale a dire, parti dalla mente e dal cuore, procedi dalla stima che si ha della Santa Vergine, dalla sublime idea delle sue grandezze e dell'amore che le si porta. È molto bello perché quando si vede una persona che quando parla dell'altro, per esempio, vada a fare un discorso, un discorso, per esempio, di un cumpleaños, discorso, diciamo, di un magio a una persona, tu puoi vedere che, diciamo, l'effetto verso gli altri non è la bellezza, la retorica, la qualità di quello che si è detto, ma quando tu senti che quello parla con l'anima, che, diciamo, è qualcosa che esce dal cuore, questa cosa ha un effetto, no? che, diciamo, è trascina a tutti quelli che sentono. Per esempio, qualche volta, dice una persona che racconta una grazia che ha ricevuto della Madonna, dice che la manifestazione della grazia nell'anima è una moneta che non si falsifica, ossia, quando l'altro trasmette se ha ricevuto questa grazia, trasmette a te. È giusto quando tu hai ricevuto una grazia, è bello raccontare agli altri, perché, diciamo, l'effetto di quello che è accaduto dentro di te produce nell'altro lo stesso effetto. La prima cosa che dobbiamo capire è questo, la nostra devozione deve essere interiore, cercare di, diciamo, di approfondire, di avere questo amore. Fra poco parleremo di un'altra cosa, che, diciamo, qualche volta siamo dentro di un stato, non so se dici, di aridità, siamo, diciamo, qualcosa che tu, sempre un deserto, una notte, diciamo, nessuna cosa ha più sapore, diciamo, quella preghiera che tante volte ti ha fatto, diciamo, sentire nel tuo cuore una forza, un'energia, una gioia, adesso sembra niente, come tutto se avesse perso il sapore. però, dobbiamo capire che quando succede questo dentro di noi, forse siamo dentro della fase più bella della nostra vita spirituale. Ripeto, no, che diciamo che se ogni volta una persona pregasse e, diciamo, Dio ottenesse quello che ha pregato e Dio desse a quella persona, donasse a quella persona la grazia di quella gioia, Sant'Agostino che dice che anche i cattivi faranno preghiera perché se è per ricevere così del stesso modo come tu fai in un negozio o quando tu vai nella luce fa così la luce si accende tu fa così ti spendi se fosse così era facile dovremmo capire che ricordo per esempio una volta una santa che c'era tanta diciamo un contatto così grande con la Madonna con Gesù principalmente questo è successo con Gesù lui diciamo era una notte di provazione ha chiesto che la Madonna apparisse davanti proprio a lui in quel momento ha detto tutta la notte niente 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 al mattino è passata quella provazione e appare Gesù ma Signore dove tu stai durante tutta la notte ti ho chiesto diciamo questa grazia e che cosa Gesù io ero dentro di te resistendo se tu sei arrivato alla fine è arrivata il mattino e tu non hai peccato non hai caduto in disperazione non era fuori era dentro di te e ho resistito quella provazione e che dovremmo capire un'altra cosa molto bella diciamo così che qualche volta confondiamo pietà con sentimento confiamo diciamo vita di preghiera con quello diciamo qualcosa che tu hai mio cuore adesso sento sento non è così dovremmo capire che la fede è come è come si dice un regalo della ragione perché diciamo abbiamo fede e ragione una volta una persona domandava così qual è il più importante la fede o la ragione no è tutto il dibattito in quella ciclica di San Giovanni Paolo II fidex et ratio fede e ragione e una persona ha detto qual è il più importante alcuni hanno detto la fede e gli dice no il più importante è la ragione in che senso perché senza ragione non si ha fede una persona diciamo perché la fede dipende anche dalla tua coscienza che tu sia diciamo equilibrato in funzione di questo tu puoi avere fede perché è una persona che è incapace di ragionare non può avere fede è questo che dico logico che diciamo alla fine la fede come dice non so se dice in italiano un obsequium un regalo della ragione e così sappiamo che la fede non è un sentimento qualche volta Dio ti chiede diciamo ti propone un'aridità totale che per esempio ogni volta che tu pregavi il rosario veniva quella gioia quella calma adesso sembra l'opposto sembra quel momento qui che alcuni fanno diciamo ha qualche diciamo difficoltà di dormire ah lo so che faccio per dormire prego il rosario tre Ave Maria dopo la mia latonina viene di modo totale alcuni facevano giusto così perché qualche volta sentiamo che non viene Santa Teresa del bambino Gesù sempre come mi ricordo questo esempio che diciamo è un esempio diciamo molto chiaro Santa Teresa del bambino Gesù lei era una così devota del Santissimo Sacramento desiderio suo di fare la comunione da bambina ha insistito tanto con tanti che volevano ricevere Gesù passa qualche anno di quella diciamo grande gioia come lei racconta la sua prima comunione che cosa bellissima passano qualche anno c'era una tale aridità nel momento della comunione non sentiva assolutamente niente che lui racconta qualche volta che quando era inginocchiata nel momento dell'azione di grazia dopo lì la comunione guardava una suora davanti a lei e raccontava i chiodi delle scarpe della suora di fronte a lei erano le scarpe con i chiodi e dice guarda che quante volte io meditavo di modo profondo le eucaristie dentro di me adesso sono così no che mi distrago anche con questo dice ma Dio ti chiede in quel momento lì la fedeltà a quello che tu hai visto prima quelle grazie che Dio ti ha concesso qualche tempo fa perché se siamo qui una cosa è certa la grazia di Dio ha lavorato e Dio ti ha comunicato diverse volte con te in diversi modi tramite diciamo una preghiera tramite diciamo anche un tramonto tramite un cielo tramite qualsiasi cosa no Dio ti comunica di qualche modo purtroppo qui in Italia la 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 metafora perché è una questione di linguaggio non capisci bene per racconto c'è diciamo in Brasile sono diversi tipi di uccelli sono tanti uccelli belli anche con quei colori e anche quel canto e uno dei più comuni si chiama un uccello che si chiama Ben TV che in italiano si può tradurre così bene ti ho visto una volta il nostro nostro fondatore era lì in una una fattoria un posto così quel periodo caldo che quando tu vada diciamo dopo il pranzo viene quel murmurio anche delle cigarre qualche rumore che lui dice che sembra il pianto della natura che qualcosa ti porta molto fastidio qualche volta perché viene quel calore quel peso come dice nella Bibbia il peso del giorno e della vita tu senti così e loro erano una camera buia e pensavo guarda qui sono solo nessuno mi vede non succede niente e l'uccello Ben TV Ben TV che è il nome dell'uccello bene ti ho visto guarda adesso ho capito quando Dio ha creato questo uccello perché dice bene ti ho visto quando tu pensavi che era solo dice Dio tramite un uccello ha dato diciamo una grazia per la posizione mai siamo soli siamo sempre diciamo nella mano di Dio e una delle caratteristiche che quando qualche persona è scomparsa la persona fa il test del calore la temperatura mette così è freddo un autore diceva che cos'è la vita che cos'è la vita perché tu distinguere tra pochi secondi una persona viva di un'altra che non è dal punto di vista diciamo fisiologico la temperatura dice che cos'è la vita in certo senso è la mano diciamo viviamo del calore della mano di Dio è come di Dio ti sostiene e ti produce questo calore ti trasmette questo siamo sempre nella mano di Dio non esiste niente fuori Dio è un'altra cosa che dovremmo capire e così dovremmo capire che la devozione è prima interiore no secondo e questo è bello perché in un mondo così diciamo che le persone hanno difficoltà di fare il bene di parlare il bene degli altri perché alcune persone sono troppo fastidiose non succede qui in Italia però sono due minuti che tu chiacchiere con la persona la persona comincia a raccontare tutti i suoi problemi tutte le sue malattie e una disputa ricordo qualche volta di Matti come tu stai ah ho svegliato con un po' di raffreddore raffreddore io diciamo io ho una pneumonia come dice una tuberculosi ah tuberculosi io ho un cancro ah tu hai un cancro poi ho un cancro tuberculosi io diciamo adesso sono disputa di quale è peggio perché perché se io sono peggio di te tu devi fare cura di me però se tu se io sono meglio che te devo fare così questa disputa e succede che essendo così e un autore diceva tu vado a visitare un'altra persona di francese che questo è tipico dei francesi è molto diciamo assim punto no? lui dice se tu vuoi che una visita rimani più tempo nella tua casa che cosa tu dici? chiedi la visita per parlare di si stessa se tu vuoi che la visita esca della tua casa veloce parli di si stesso tu parli di si stesso tu cominci la visita arriva io 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 la visita non resiste adesso vado perché dice proprio così alcuni sono un'ambulanza e quell'ambulanza italiana che tutti che vengono che non sono italiani non esiste nel mondo un'ambulanza più alta che quella dell'Italia può fare viaggio e sentire tu quando niente se tu non sai se adesso è nel Colosseo se è diciamo nel Vaticano perché tu senti per alcune persone sembrano un'ambulanza io 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 no al punto che il nostro fondatore qualcuno ha chiesto una persona per dare una conferenza e alcuni hanno fatto un puntino così quante volte la persona che era parlato di un altro tema ha parlato di si stesso in un'ora ha tratto 92 volte ha parlato io perché il punto di riferimento per tutte le cose è se stesso perché quando parla di tenera una persona che così non può provocare nell'altro tranquillità tenerezza perché tenerezza è molto legata a preoccupazione più con l'altro che se stesso e quando parla della Madonna come una devozione deve essere tenera dice così il secondo luogo è tenera cioè ci fa confidare nella Santissima Vergine come un fanciullo nella bontà della mamma un fanciullo così nel braccio della mamma basta questo qui diciamo è il mondo per questo il bambino quando nasce non riesce a vedere bene quattro mesi vede bianco e nero per di più diciamo il profumo e gli udito è perfetto e sente la presenza e sente molto di più la mancanza della madre dice dobbiamo essere attaccato alla Madonna come un bambino è attaccato alla mamma e dice un'anima adorna di tale devozione ricorre a lei in tutti i suoi bisogni corporali e spirituali in tutti i bisogni corporali e spirituali ricordo una volta che una donna piena di fede era per cercare un posto così e era con una persona che non era cattolica era contro la Madonna e la macchina e che cosa è successo c'era un tribunale tu sai che parcheggiare qua a Roma sempre diciamo è un vero miracolo era un altro paese ma anche lì era difficile la donna dice così guarda preghiamo insieme un'avemaria per trovare un parcheggio per la protestante lei ha pregato era tutto pieno dice so che lei ha fatto questo dice la Madonna vada a trovare il parcheggio per me davanti agli altri che è qualcosa di fare tentare a Dio qualche volta però dice quando vado nella via tutto pieno e avvicinava della porta del tribunale mio Dio ho fatto questo e adesso l'altra vada a dire il momento che arrivava una macchina esce di fronte alla porta del tribunale e parcheggia lì guarda ma tremava la Madonna ha dato questo sentito devi chiedere ogni cosa ogni cosa però non soltanto questo e dice così devi chiedere in tutti i bisogni corporali e spirituali perché un figlio mai 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 diciamo diciamo deve fare calcolo per chiedere alla madre immaginare per esempio qui sono diverse le madri qui tuo figlio per esempio arriva all'ora del pranzo tuo figlio per esempio arriva e dice vado adesso a pranzare no no ho pranzato nella vicina ma come non c'era cibo nella casa nel giorno dove tu sei ho mangiato nella casa del mio per la madre quello lì diventa un'offesa perché un'offesa perché dice io essendo tua madre devi chiedere a me e non chiedere agli altri e oggi crediamo tanto con tutto rispetto ai medici crediamo a tanti avvocati crediamo a tanti giudici sono tutte persone che meritano diciamo la nostra fiducia però se tu metti tutta la fiducia nell'altro tu sei chiamato a avere sempre delusione viene una frase nel salmo nella bibbia in generale dice che è molto forte che ogni volta che è maledetto quello che si affida nell'uomo chiama di maledetto quando una persona ma che senso maledetto quello che si affida dell'uomo immetti in lui tutta la sua salvezza quando troviamo tante persone che dicono sono deluso se no qualche volta ti dicono la colpa è tua in certo senso perché diciamo tu hai dato una persona fiducia che non meritava dal tempo per esempio dell'Aristoteli basta dire secolo IV prima di Cristo come tu puoi dire che tu conosci un altro che puoi chiamare un altro anche di amico quando tu hai mangiato insieme 15 kg di sale perché non è diciamo proprio l'amicizia e la fiducia non è qualcosa che succede di un giorno all'altro è frutto di una continua continuata un atteggiamento di piccoli esempi di fedeltà no? perché la fedeltà è qualcosa che sempre deve esistere è giusto così fedeltà dovremmo essere logico sempre fedeli a Dio ma la fedeltà si parla nel matrimonio e l'altra cosa è anche una fedeltà verso si stesso no? perché non è verso l'altro se l'altro diciamo non segue quello che deve fare non fa quello che deve fare il problema è suo io devo essere fedeli è quel fatto che tutti conoscono qui di un uomo una coppia anziana e la moglie per esempio c'era Alzheimer era nell'ospedale non si ricordava di nessuno era così dormiva praticamente tutti i giorni lì e il marito chiacchierava al mattino con gli altri amici dice guarda adesso sono il 9 del mattino devo andare nell'ospedale per salutare la mia moglie faccio questo ogni giorno dice non rimane con noi qualche minuto se no ogni giorno per vederla e l'altà ha detto ma può essere 9 e mezza lei non vede niente lei non sa niente no? perché non sapeva della sua presenza lei non sa però io so diciamo io ho accettato ho fatto per me un impegno un compromesso di andare ogni giorno alle 9 se io vado o non vado per la moglie non cambia per me cambia perché io che diciamo ho rotto la mia promessa e questo qualche volta davanti dice nella famiglia davanti nel negozio dice l'altro ha diciamo ha distrutto l'amicizia ha diciamo non ha non è non è stato giusto di quel compromesso che abbiamo fatto dice lui se l'altro è così non dà a me il diritto di essere opposto perché è giusto tante volte diciamo il difetto dell'altro che noi all'inizio si fa una critica del difetto dell'altro se non siamo attenti poco tempo dopo facciamo il peggio la critica che facciamo all'altro noi per vendetta poco tempo dopo facciamo lo stesso dice così che con molta semplicità confidenza e tenerezza implora l'aiuto di questa buona madre in qualsiasi tempo in qualsiasi logo in qualsiasi cosa e lui dopo enumera diversi punti di che cos'è questa devozione tenera dice così prima nei dubbi per essere illuminati dubbio che cos'è una doppia via una doppia via una via che diciamo è una una come si dice in italiano è bivio no? bivio guarda che il nome bivio è dubbio bivio così una doppia via tu sei così e questo ho dato qualche volta quello che conosco ogni anno quando faccio questo corso presento questo esempio che per esempio di che cos'è un bivio se tu stai in una strada che è in accesa e adesso finisci la benzina della tua macchina l'ultima goccia è lì sono due strade una che sale un'altra che scende no? soltanto nella strada giusta si trova il benzinaio la strada sbagliata non c'è davanti a questa situazione a un bivio a diciamo un dubbio una doppia via quale della via che tu devi scegliere dal punto di vista che tu sei un autista quale che tu devi scegliere quelli che pensano che devi salire alzano le mani quelli che dicono che devi scendere alzano le mani e quelli che non pensano niente hanno le mani pronto la maggioranza almeno questa volta sono alcuni attenti per vedere che vada a succedere perché si sente che c'è qualcosa lì c'è qualcosa indietro davvero dal punto di vista anche come un autista che succede ha due scelte se tu scegli quello che scende che sembra quella diciamo in generale la più giusta se tu sei la strada sbagliata tu sei nello diciamo giù però se tu scegli sempre la strada tu devi sempre scegliere la strada che sale perché se tu vada con la macchina tu 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 se la strada è sbagliata per scendere è così facile metti la macchina dopo scende perché per scendere naturalmente si dice così non so si dice tutti i santi aiutano però per salire così se tu e questo dici davanti a un dubbio sempre devi scegliere la diciamo quella che ti leva più all'alto perché per scendere è facile perché tante volte siamo nel dubbio se scegli giù e no perché per l'alto che diciamo sempre è la soluzione così dice così nei dubbi per essere illuminati negli smarrimenti per essere corretta nelle tentazioni per essere sostenuta perché la tentazione si stesso pensiamo che sia qualcosa di cattivo di cattivo non entrerò nelle spiegazioni del padre nostro perché è un po' più complesso però dobbiamo capire una cosa che cos'è una tentazione e che questo nel padre nostro che si trova il significato tentazione e provazione sembra sempre qualcosa di cattivo che ti vogliono diciamo ti fare cadere no? però provazione è una prova che ognuno deve passare perché per meritare qualcosa di di bello tu devi passare per una prova per esempio acquistare un trofèo trofèo per acquistare un trofèo è facile vado a un negozio acquisti e metti primo uno dopo dieci tu fai tutto così però perché le persone non fanno questo forse qualcuno o no almeno di oggi è così perché perché tu devi sentire che il bene che fa di aver conquistato qualcosa passato per una prova qui diciamo vediamo tanto tante quelle che si preparano diciamo per gli esami della media come si chiama quelle che definisci le scuole diciamo maturità la maturità era tutta quella preoccupazione definire dice se qualcuno dice forse qualcuno però tu puoi andare in un locale stampare non vale devi avere passato per la prova e questo diciamo tutti gli angeli che sono nel cielo hanno passato per la prova noi come ho spiegato qualche giorno fa siamo qui nella terra apparteniamo alla chiesa sono quella del cielo la chiesa ricordano la chiesa diciamo sono tre chiese in una sola chiesa sono tre la chiesa che sta nella gloria triunfante la chiesa diciamo che nel purgatorio padescente o purgante quello che diciamo così noi apparteniamo alla chiesa militante che è quella che è dentro della guerra dentro della guerra e se la persona non capisce come dice lì nell'antico testamento che la vita dell'uomo è una battaglia è una lotta non ha capito niente se tu sei un cattolico che chiede a Dio soltanto diciamo vivere in una certa tranquillità in una pace che non è la pace di Augusto come abbiamo parlato non è la pace diciamo del mondo è la pace di Dio no? tu non hai capito niente la frase più giusta è quella latina si dispacem parabellum si voglia la pace tu devi prepararsi per la guerra la guerra contro il mondo la guerra contro si stesso e questa diciamo è la grande battaglia della grande battaglia abbiamo visto così la vera devozione che è interiore la devozione tenera vogliamo finire e dice così nelle tentazioni per essere sostenuta nella debolezza per essere fortificata nelle cadute per essere rialzata negli scoraggiamenti scoraggiamenti per essere incoraggiati 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 incoraggiata è così che cos'è la parola coraggio? abbiamo spiegato qualche volta no? coraggere agire quel cuore così con una forza che la persona agisce con coraggio no? quel cuore tu hai messo tutto il tuo cuore in quel momento è giusto che una persona dice così che una persona è scoraggiata è perché appesso il cuore non metti il suo cuore in quello che fai e dice così negli scrupoli per essere liberata nelle croce per essere nelle croce nelle fatiche negli ostacoli della vita per essere consolata che cos'è consolata? qualche volta è interessante capire che consolare non è soltanto pensare quello che è vicino è quel momento che tu si sente solo sola è un solo accompagnato dell'altro no? perché diciamo nel dolore tutti noi diciamo nel momento che vada a congedarsi nel momento diciamo della morte di un parente diciamo di una persona vicina a te è molto difficile parlare per l'altro quello lì e diciamo non sono le parole la persona bisogna che cosa? presenza bisogna che qualcuno ti console in questo tempo io essere solo perché quando tu perdi qualcuno è solo ma diciamo sono solo che non è solo è accompagnato dell'altro e questo essere diciamo consolato e dici infine in tutti i mali corporali e spirituali Maria è il suo rifugio ordinario e non temi di importunare questa madre buona o di dispiacere a Gesù Cristo è questo che quando Gesù parla della preghiera importuna non so se dice così la preghiera importuna che dice che è quella vedova che una volta diciamo bussava la porta del giudice ogni giorno e notte lui dice io sono cattivo dice non sono buono ma l'insistenza di questa persona è così grande che concederò questo non perché sono buono non perché sono d'accordo ma perché diciamo l'insistenza così deve essere la nostra preghiera fra poco nella prossima lezione vedremo giusto che cos'è la preghiera costante la necessità della preghiera costante e questo capiremo adesso finiamo la lezione 9 e adesso iniziamo la lezione 10 con un grande intervallo grandissimo intervallo di mezz'ora che abbiamo fatto